Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella nuova rubrica Retro Dylan in cui mensilmente mi piace parlare di un vecchio numero di Dylan Dog che mi ha colpito particolarmente. Lo so, oggi esce l'Old Boy tra l'altro, ma datemi appunto il tempo di leggerlo, dell'Old Boy ne parlerò domenica mentre oggi ci concentriamo su Dylan Dog numero 19, Memorie dall'invisibile. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale potete iscrivervi cliccando qua sotto e sempre qua sotto, un po' più sotto in descrizione, trovate anche tutti i link ai miei social se volete seguirmi ovunque. Dylan Dog, Memorie dall'invisibile, il numero che è uscito per la prima volta il primo aprile 1988. Direi che l'universo di Dylan Dog e anche la genesi del personaggio sono ormai ben assestate, ben scritte. Dylan Dog è coerente a se stesso, è un ex alcolista. In questo numero tra l'altro lo vediamo appunto sgarrare in un momento di particolare depressione, ma per il resto è fedele alla sua linea di condotta. E la storia stessa rappresenta una di quelle che mi piacciono di più proprio perché è una delle storie dove il mostro, la figura soprannaturale non è il vero abominio di questa società. Il vero abominio di questa società sono le persone normali, tra virgolette. Le tematiche di questo numero sono proprio le persone invisibili. Le persone che sono invisibili agli occhi della società. In questo caso sono le prostitute o anche i loro clienti, non tutti i clienti, ma quelli più alienati e soli che vanno da loro perché se non pagano le persone nessuno li ascolterebbe. Ne abbiamo un paio di esempi proprio anche in questo numero. E di come queste persone siano anche per questo motivo abbastanza pericolose verso le prostitute. Tant'è che un altro tema di cui si parla in questo numero è appunto la violenza sulle donne, se vogliamo dirlo con un termine moderno, anche il femminicidio. Dato che vengono uccise proprio perché sono donne, dato che vengono uccise proprio perché a detta degli assassini le amavano troppo. Si cita anche un tema come l'assurdità di scandalizzarsi per un omicida che appunto uccide una manciata di persone e non si batte ciglio per tutte le vittime che si fanno durante una guerra, che è un po' il tema che tratta il Joker di Heath Ledger nel Cavaliero Oscuro. Sempre parlando di Joker, questa storia mi ha ricordato anche un pochino il Joker di Arthur Fleck, quello interpretato da Hawking Phoenix, proprio perché è una storia molto particolare, che non è raccontata dal punto di vista di Dylan Dogg, del protagonista, né tantomeno da uno dei personaggi comprimari, ma è proprio raccontata dall'ultima persona che ci si aspetta, ovvero da questo invisibile, da questo uomo invisibile, da questo signor nessuno, che racconta le vicende che sono accadute. Ed è proprio all'inizio che questo signor nessuno ci mostra come si affeziona all'unica persona che gli abbia mai sorriso, questa Aileen, che ricorda un po' la Sophie interpretata da Zazie Beat nel Joker di Heath Ledger, che è una persona che gli ha sorriso, l'unica al mondo, per il quale lui si sente un po' meno solo. Questo numero è sclavi puro, è scritto con una tecnica tipicamente sclaviana, è fuori da ogni schema narrativo. Se l'avesse scritto così, appunto, un signor nessuno, probabilmente lo avrebbero licenziato. Ma con Tiziano Sclavi non solo non succede, ma funziona anche. Questo perché Tiziano Sclavi non è uno scrittore di fumetti, è uno scrittore di romanzi. Lui scrive dei piccoli gioielli, dei piccoli romanzi ogni mese, e qualcuno glieli disegna. Perché solo in un romanzo ci può essere la fine della storia principale, all'incirca a metà, per poi continuare su una nuova trama che porta a nuovi sviluppi. In un fumetto classico non l'avremmo assolutamente visto, una cosa del genere. Qua è un fumetto degli anni Ottanta, che poteva... è a tutti gli effetti una sorta di fotoromanzo. Quasi ci si aspetta che la storia continui nel prossimo numero, perché è come se ci fosse una storia breve, e poi un'altra storia che non finisce. Invece è proprio Tiziano Sclavi che scrive in questo modo. Giusto a scanso di equivoci, qua vediamo l'assassino, che però non è la persona invisibile. La persona invisibile appunto è la voce narrante di tutta questa storia, che non è cattivo, anzi lui protegge le prostitute da questo assassino. Durante la storia si scopre che c'è più di un assassino, ci sono ben tre assassini, o comunque probabili assassini, dato che alcuni vengono fermati in tempo. Mentre questo invisibile appunto protegge le prostitute che sono esse stesse invisibili agli occhi della società. La società è rappresentata da Scotland Yard, ma non dall'ispettore Bloch. Con molta tenerezza e naturalezza, Bloch dice che lui stesso andava con una prostituta che è stata una delle vittime di questi assassini, e di cui si era addirittura innamorato, e si sentiva quasi patetico per questo, mentre Dylan lo comprende benissimo, perché lui stesso si è innamorato di Brie Daniels, che anche lei è una prostituta, anche se Dylan non l'ha conosciuta in quel frangente, ma al contrario è Brie Daniels a essere una cliente di Dylan, dato che lo ha assunto per trovare questo assassino. Però mi è piaciuto questo parallelismo tra Dylan e Bloch che si innamorano entrambi di prostitute, di persone non accettate dalla società degli anni Ottanta e neanche di quella odierna. Sempre Bloch, appunto, avanti i cent'anni, in una vignetta dice che tra le varie testimonianze ha sentito di feticisti, sadomasochisti, omosessuali, bisessuali, e tutta gente normale. Ormai nella sua lunga carriera le uniche persone per cui ancora si stupisce sono gli assassini. E quando uno dei suoi agenti esita nell'essere d'accordo, Bloch gli dice proprio tranquillamente guarda che non devi immaginare di essere d'accordo con me, lo devi essere d'accordo con questa frase, se no ti mando a dirigere il traffico. Questo fa vedere come già nell'88 una persona che anziana come Bloch rappresenta non l'anziano che si chiude a queste cose ma la saggezza di una persona che ha visto tutto e ha capito che l'unico vero male del mondo è la persona che ferisce l'altra persona, non la persona che ama l'altra persona seppur in modo inconsueto. Il numero è davvero un numero molto lungo, sono sempre le solite 94 pagine, ma si percepisce un lasso di tempo davvero prolungato rispetto a una storia solita perché passano appunto delle stagioni, è ambientata a ottobre all'incirca, poi c'è il Natale dove appunto impiccano uno dei, il primo degli assassini, poi arriva la primavera e poi c'è un nuovo caso. Questo passare del tempo viene percepito dal lettore ed è per questo che dico è un piccolo romanzo racchiuso in un fumetto. E in questo piccolo romanzo vengono introdotti un sacco di personaggi davvero interessanti come la mamma Tabitha Madame, la mamma di uno di questi assassini, nonché dell'uomo invisibile a quanto pare. Viene introdotto l'uomo invisibile stesso, viene introdotto il primo assassino che lì per lì mi ha ricordato quasi Lord Wells, il personaggio del giornalista Coldwater, che francamente mi sarebbe piaciuto vederlo come una spina nel fianco anche in altri numeri, ma vabbè è andata diversamente. E soprattutto viene introdotta Brie Daniels, una delle tante damigelle di cui Dylan Dogg si innamora, ma che è una di quelle damigelle molto importanti. Altra donna caratterizzata molto molto bene da Tiziano Sclavi. Dylan pare che abbia un debole per le ragazze un po' svampite e molto dirette. Lo abbiamo visto anche quando ho parlato di Golconda e di Amber Cat e del suo modo molto particolare di parlare, lo vedevamo proprio nelle vignette. Qui Brie Daniels è molto diretta e pronuncia Dylan in modo errato, per fare anche cenno a come molti nell'88 sbagliavano la pronuncia, chiamandolo Dylan. Pensate che c'è ancora gente adesso che lo chiama Dylan. Approfittano di questo numero per spiegare a tutti i lettori che si pronuncia Dylan Dogg e non Dylan Dogg. E c'è tutta questa gag di come Brie per tutto il tempo lo chiami Dylan, finché finalmente anche lei non lo chiama Dylan per l'ultima volta, per andarsene, ma la rivedremo ancora in una storia davvero importante per l'indagatore dell'incubo. La maestria di Sclavi anche nel farci dimenticare a noi stessi lettori il personaggio dell'uomo invisibile, non parlandocene per diverse pagine, facendoci illudere che lui stesso si sia tolto la vita per poi farlo tornare nel gran finale è un tocco da maestro. A meno che non se lo fosse dimenticato mentre scriveva, ma vogliamo credere che sia un tocco da maestro. A livello grafico mi è piaciuto un sacco come la parte narrativa appunto dell'uomo invisibile abbia questo font totalmente diverso come se fosse appunto una didascalia di un piccolo racconto appunto e non un balloon come negli altri. Mi sono piaciuti molto i disegni di Casertano soprattutto anche una vignetta in cui viene disegnata credo l'abbazia di Westminster una vignetta assolutamente in cui poteva benissimo fare a meno di disegnare quella abbazia così difficile poteva disegnare qualunque cosa perché era solo un riempitivo per un dialogo eppure in un numero così ha voluto disegnarla e davvero è tanti complimenti allo stile di disegno di Casertano. se avete modo di recuperare questa storia ve la consiglio tantissimo è una storia che secondo me non va neanche letta tutta ad un fiato io me la sono rieletta ad un fiato per fare questo video ma vi consiglio di tenerla sul comodino e leggere qualche capitolo con molta calma perché siamo nell'88 e il fumetto è ancora diviso in capitoli se trovi il link su Amazon ve lo metto qua sotto in descrizione in modo che possiate comprare questo fantastico fumetto se non lo trovo vi metto eventualmente il sito Bonelli da cui potete acquistare la ristampa e vi metto sempre qua in descrizione anche i due film del Joker di cui ho citato all'inizio perché mi hanno ricordato questo numero mi ha ricordato questi due film vi ringrazio per avermi seguito fino a qui non ho fatto una recensione breve come quella dei Conigli Rosa Uccidono ho voluto differenziarmi un pochino e tornare alla mia lunghezza abituale fatemi sapere qui sotto anche questa cosa se vi piace di più una recensione molto breve di da scalica o se preferite una chiacchierata come faccio di solito io vi ringrazio ancora per avermi seguito fino a qui e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video